Buongiorno a tutti, oggi facciamo un allenamento IT, un allenamento che dura 20 minuti, fatto di tre circuiti, ogni circuito è fatto di due esercizi, le ripetute di ogni esercizio le facciamo per 30 secondi con ricupero di 10 secondi, cominciamo il primo circuito, primo esercizio, jump jack, per 30 secondi e ricuperiamo 10 secondi, dopodiché passiamo al ginocchio al petto, 30 secondi e ricuperiamo 10 secondi, questi due esercizi li facciamo per tre volte, passiamo al secondo circuito, primo esercizio, jump squat, per 30 secondi e ricuperiamo 10 secondi, secondo esercizio è pigamenti sulle braccia o push up, per 30 secondi e ricuperiamo 10 secondi, dopo che abbiamo fatto questi due esercizi li ripetiamo per tre volte, l'ultimo circuito è un plank sulle braccia, per 30 secondi e ricuperiamo 10 secondi, l'ultimo esercizio è climbers, 30 secondi e recuperiamo 10 secondi, plank e climbers li facciamo per tre volte, dopo che abbiamo fatto tutti i nostri circuiti facciamo un po' di stretching e buon allenamento a tutti.